È in corso di ultimazione all'ospedale Santo Stefano di Prato la nuova ala dedicata al ricovero dei pazienti positivi al coronavirus, 60 posti letto che si sommano alle nuove degenze che la regione toscana ha creato negli ultimi mesi per fronteggiare l'emergenza. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini hanno effettuato un sopralluogo per prendere visione dei nuovi locali. Quando siamo partiti, pensate, prevedevamo che potessero arrivare i coveri covid in Toscana a 3.500. In realtà poi oggi ci troviamo in una situazione in cui siamo sotto i 1.100 per cui siamo in una situazione chiaramente molto migliore. Però questi sono posti che sono molto importanti perché ora comunque ci servono per tenere più isolati i pazienti covid. Posti letto dotati di tecnologia all'avanguardia che consentono ai pazienti una connessione diretta con gli operatori sanitari ma anche con i familiari all'esterno dell'ospedale. Noi ci troviamo ad avere letti molto moderni, molto funzionali, servizi d'eccezione. Col telefonino è collegato il paziente alla rete wireless e quindi può chiamare a casa ma contemporaneamente sono tutti stretti. Nel momento in cui vediamo che possiamo allargare gli spazi è una questione umana. L'assessore Simone Bezzini ha incontrato il sindaco di Prato, Matteo Biffoni e gli operatori sanitari per fare il punto su alcune criticità ad iniziare dall'organico. La regione toscana ha assunto ad oggi oltre 6.000 persone nel 2020. Qui è stato evidenziato con grande forza la necessità anche di riprendere appunto una relazione tra capacità di arruolamento del personale e percorsi formativi perché su alcune figure professionali c'è una grande difficoltà a referirli diciamo nel mercato.